Buona domenica e bentornati al consueto appuntamento con le novità fumetti della settimana. Finalmente una settimana relativamente con meno uscite. Cominciamo con la Marvel e il secondo numero di House of X. Ormai dovreste conoscerlo, il rilancio mutante di Jonathan Hickman, qui con i disegni di Pepe Lavaz, ci porta pari pari il secondo numero della versione americana. Molto molto bello, grande novità in qualche modo, prima o poi ve ne parlo. Numero 3 per Miles Morales, Spider-Man. La serie scritta da Saladin Ahmed è disegnata da Javier Garon. In realtà ho letto solo il primo numero, voglio leggermi anche 2 e 3 dove si conclude la prima saga, giusto per capire se andare avanti o tagliarla qui. Cosa molto probabile, vero panini? Numero 67 per Wolverine, in cui continua Deadman Logan, con gli episodi 5 e 6. La storia è di Ed Brisson, i disegni di Mike Anderson. Questa per ora ovviamente si continua, amo i mutanti, si sa. Numero 12 o 397 per i Fantastici 4. E questo, sì, è il mio ultimo numero. I testi sono di Dan Slott, i disegni di Shawnee Zaks e contiene anche una storia breve di Jeremy Wheatley, disegnata da Will Robson. Vi ho già spiegato quanto mi dispiace lasciare questa serie, ma non ci posso fare nulla. Numero 17 per Immortal Hulk, un numero doppio con due episodi, i 17 e il 18 originali. Per entrambi, testi di Al Ewing e disegni di Joe Bennett. Questa è una serie che continua a piacermi, e quindi la continuiamo. Venom numero 16, in cui continua il tie-in dedicato alla Guerra dei Regni, storia di Cullen Van, disegni di Iban Coelho e Alberto Albuquerque. In ogni caso, il tie-in continua anche il mese prossimo, un po' fuori tempo massimo in realtà. Lasciando la Marvel, passiamo rapidamente alla DC, un solo volume. Batman che ride. Un po' Batman, un po' Joker, una storia di Scott Snyder e James Stein in un quarto, con disegni di Jock ed Edoardo Risso. Devo dire che non compro molti volumi della Revu Lion. La versione inglese costava più o meno uguale, e quindi ho preso quello in italiano. All'interno troviamo i 7 episodi della miniserie The Batman Ulaff, più The Grim Knight. Sicuramente interessante e collegato alla saga di Notte Oscure Metal. Altri volumi americani. Per Magic Press, il terzo e ultimo volume di BRPD, Il Diavolo che Conosci, intitolato Ragnarok. Testi di Mike Mignola e Scott Haley, disegni di Lawrence Campbell, e anche di Mike Mignola stesso. E' il volume che chiude fondamentalmente la saga dell'universo di Hellboy. Probabilmente ve ne parlerò una volta letto. Un volumetto da salda press. Frank Miller Robocop. Come potete notare, un'edizione di un certo peso. Contiene i due fumetti tratti dalle sceneggiature mai utilizzate per Robocop 2 e 3, scritte da Frank Miller. La storia è adattata al media fumettistico da Stephen Grant. I disegni sono di Juan José Rip e Kovut Oztekin. Senza averlo ancora letto, sono abbastanza sicuro che sarà meglio delle versioni cinematografiche. Non ci vuole poi molto. Se volete che ve ne parli, scrivetelo nei commenti. Un altro volume, questa volta italiano. Frank, scritto da Barbascura X e disegnato da Bohman Peshov. E' edito da Polignani, l'ho ordinato direttamente. Conteneva una strana stampa di un disegno a matita fatto da Barbascura. Non so se si vede e non so perché lo conteneva. Non l'ho ancora letto, ma sicuramente ve ne parlo perché sono su YouTube. Loro sono su YouTube, quindi è inevitabile. Restando in Italia, ho preso il primo numero di Attica. Il nuovo fumetto di Sergio Bonelli, editore, in formato manga. E se volete una polemica sul fatto che non basta fare un fumetto in formato manga per fare un manga, non è questo il momento, tranquilli, lo recensirò e ne discuteremo. In ogni caso, storia, sceneggiatura e disegni di Giacomo Caisson bevi l'acqua. Pare sia molto bello, non vedo l'ora di leggerlo. Ma passiamo ai manga veri e propri, tornando in panini. Numero 9 per Beastars. Continuo a piacermi? Credo che in questo numero arrivi finalmente il momento di scoprire il mistero che ci attanaglia fin dal primo numero, ovvero chi ha ucciso l'alpaca, di cui non ricordo il nome. Testi e disegni di Paru Itagaki. Numero 6 per Gleipnir. Lo strano manga con gente che si trasforma e si picchia di Sun Takeda. I primi 5 numeri mi sono piaciuti molto. Penso che mi piacerà anche questo. Numero 17 per Nana e Kaoru. Il manga che non mi diverte più da un po', ma che finisce col prossimo numero. Testi e disegni di Ruta Mazzune. Chiudiamo con Star Comics. Numero 5 per To Your Reternity. Le avventure della strana creatura immortale che fa cose in un mondo misterioso. È molto meglio di quello che sembra dalla descrizione. Di Yoshitoki o Ima. E per ultimo il numero 19 di Jojolion. O Jojolion. Non l'ho mai capito. Iroiko Araki. All'interno trovate anche una cartolina di celebrazione di non so cosa. Ho provato a capirlo dal fumetto, ma non l'ho trovato. Una qualche ricorrenza? Forse perché Araki era Luca? Boh. Bene, con questo direi che è tutto. Vi ricordo che se volete sostenere il canale, trovate i link in descrizione dei fumetti che trovate anche su Amazon. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Iscrivetevi al canale e soprattutto al canale Telegram che trovate in descrizione e che vi manda una notifica ogni volta che esce un video, così non ve ne perdete nessuno. Se volete vedermi ancora più spesso, iscrivetevi anche ad Instagram, così vi ammorba un po' con le storie, anche se ultimamente ne sto facendo poche, ma la colpa è di Pokémon Spada, che però ho finito ieri, ma ora c'è l'endgame. Boh. E noi comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao.